Immaginate che arrivi qualcuno e dice Ted, cambiamo acronimo, non è technology, entertainment, design, ma è qualcos'altro. Voi come reagireste? Perché? Pensate come devono aver reagito il consiglio di amministrazione della BP, si chiamava British Petroleum e con la pressione della cittadinanza, della stampa, scelsero un altro nome, Beyond Petroleum, quindi oltre il petrolio, perché parto da qui? Perché ieri l'associazione dei petrolieri italiani ha cambiato nome, si chiamerà associazione per le energie e per la mobilità. Chiacchiere o realtà? Questo è esattamente il punto in cui siamo, chiacchiere o realtà? Ed è il punto in cui questa crisi ci obbliga a un'accelerazione delle decisioni. Perché abbiamo capito tutti che non c'è più tempo. La scienza ci dice che c'è una correlazione tra inquinamento e gravità del covid, non una causazione ancora. Ma nella testa della gente il click è scattato. E vediamo quante persone hanno cambiato improvvisamente modo di spostarsi. Questo è una cosa da Fighetti, è una parola che si può usare, o è un cambiamento strutturale? Io trovo che in Italia si è stata fatta una polemica incredibile su gli incentivi alla mobilità cosiddetta dolce, e cioè biciclette a pedalata assistita, a monopattine eccetera, quando ci sono 19 miliardi all'anno di sussidi che vanno invece a danneggiare l'ambiente. Eppure nessuno ha detto ma che state dicendo? La battuta che facevamo durante il lockdown che era proprio il momento di tagliarli perché se anche i tir avessero fatto, avessero bloccato le città, non c'era nessuno in giro a imprecare. La sto mettendo un po' così in senso di gioco, ma non è un gioco. Perché non è un gioco? Perché l'Europa adesso con questi famosi fondi, di un fondo che si chiama Next Generation EU, non Recovery Fund, io ogni volta sono intervistato, ogni massacro chi usa questo termine, perché vi ricordate quando anni fa c'era una attrice che faceva la presa in giro della Ministra della pubblica istruzione, che non riusciva a dire pubblica, infatti fu cambiato anche il nome del Ministero che si chiama dell'istruzione. Ecco noi Next Generation EU proprio, non ce la facciamo. Perché? Perché vogliamo usare questi soldi per guadagnare magari qualche decimo di pilla nel famoso rimbalzo che speriamo tutti ci sia l'anno prossimo. Ma l'Europa ci dice, momento, il 37% di quei soldi deve andare alla lotta contro la crisi climatica, giusto quello che è stato detto prima, non il cambiamento climatico, la crisi climatica. E poi il 20% alla digitalizzazione e poi e poi ecco 37 miliardi, 37% vuol dire 77 miliardi. Ma poi l'Europa dice, adesso ci dovete dire come li volete usare e come li coordinate con i fondi nazionali, quei 19 miliardi. Immaginate che l'Italia non faccia nulla, credo che gli altri paesi europei, soprattutto i paesi frugali, direbbero scusate, intanto usate i vostri soldi, poi tutta più i nostri. Ecco dove siamo. E l'Europa da questo punto di vista va elogiata e lodata perché ha tenuto la barra dritta nonostante la crisi. Nell'evento di presentazione del rapporto ASBIS dell'altro giorno il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, ha detto guardate che da noi sono venuti a dirci dateci le mani libere e facciamo il rimbalzo economico come abbiamo sempre fatto. E noi gli abbiamo detto di no. Abbiamo detto che il Green New Deal serve all'ambiente ma serve anche all'economia. E sapete cosa hanno fatto? Hanno deciso che i 100 miliardi che servono per le emissioni, che servono per pagare il fondo SURE, cioè la cassa integrazione, le indenità di disoccupazione, verranno raccolti con social bond, cioè con dei titoli che vanno a impattare direttamente con degli indicatori chiari sugli aspetti sociali. E il 30% dei famosi 750 miliardi del Next Generation saranno Green Bond, cioè titoli che vanno esattamente in quella direzione. Lo dico e arrivo alla conclusione. Perché si poteva fare anche prima. Bene che si faccia adesso. Per dire che dipende da noi. Dipende da noi naturalmente nelle micro decisioni, come abbiamo sentito, ma dipende da noi, dalla politica in questo momento. Ecco la differenza tra una resilienza, cioè la capacità di tornare indietro dopo una crisi, e la resilienza trasformativa, cioè il rimbalzo in avanti. Non a caso il Fondo Europeo si chiama per la ripresa e la resilienza. E ogni volta che noi dimentichiamo questo nome, come per il Next Generation, pensiamo che tutto sommato possiamo tornare a un anno fa. E invece no.